Voglio scrivere un romanzo. O forse un racconto. Sì, è meglio, è meno impegnativo e poi richiede meno tempo. E cosa scrivo? Vediamo. La vita è piena di eventi, basterebbe solo iniziare. Il resto va da sé. Occorrerebbe, sì, occorrerebbe qualcosa che mi toccasse da vicino. Ecco, inizierò così. Se guardo al mio passato, mi torna insistente alla mente. La storia d'un'amicizia dolorosamente interrotta. Un'amicizia d'un tempo ormai sepolto. No. Troppo ho sfruttato il filone delle amicizie troncate. E poi, se una storia si porta insieme al tempo, perché... Perché di seppellirla? Eppure vorrei farlo. E se cominciassi dall'epilogo? No, no. Ci vorrebbe qualcosa, un incipit che attiri subito l'attenzione. Come... Come... Si suicidò all'alba gettandosi da un ponte. No. Nemmeno questo va troppo macabro e neppure tanto originale. Suicidarsi è una delle poche cose alla portata di tutti. E poi chi legge vorrebbe saperlo subito chi si sarebbe suicidato. No, non un artista sognatore incompreso, né uno scuro piccolo impiegatuccio di provincia. Come si aspetterebbe il lettore. E a quell'ora poi, all'alba, avrebbe scelto un orario più malinconico. Il tramonto. Faccio per dire. Eppure quell'alba avrebbe motivo ad esserci nella mia storia. Insomma, di chi e di che cosa voglio scrivere. Nel mio racconto... Nel mio racconto vorrei parlare di Giuliano. Sì, di Giuliano. Direi di quelle serate passate con la chitarra. A casa mia. Ecco, proprio così potrebbe iniziare la mia narrazione. Quelle serate passate con la chitarra. E parlerei di Gaia, di Giuliano e di Alberto e di mio fratello Paolo. Sì, di tutti, tutti come allora. E della storia... D'un amore. Uno di tanti. La cosa rischierebbe di diventare banale, ma non lo è. Potrebbe solo sembrarlo. Tutto sta... Tutto sta a saperla rendere. Alberto suonava. Era questa l'abitudine. Qualcuno ascoltava. C'era chi parlava vicino al camino. Che freddo fuori. Ottima Luca questa grappa. Poi si finiva sempre per ascoltare vecchi dischi. E Alberto e la sua chitarra erano messi da parte. Per la prossima volta. Con le solite canzoni. Gaia. Gaia già allora con il suo carattere di chi se ne frega. Giuliano sembrava un cagnolino al guinzaglio. Sì, sì, no, no. Ma ci vorrebbe qualcosa. Qualcosa di più interessante. Che aiuti a capire. Potrei metterci che Gaia e Paolo... No. Non è vero. Anche se non sarebbe stato neppure tanto strano. Lei era desiderata da tutti noi. Potrei dire di quando Paolo ripeteva che l'avrebbe fatta finita. Tant'è che un giorno pubblicò la propria morte sul giornale. Che pazzo. Me li vidi piombare tutti a casa a domandare come, quando. Gaia l'ha prese molto male. Ma che accadde poi? È così lontano quel tempo. Potrei narrare delle scenate tra Gaia e Giuliano. Poi... Poi della fuga di lei, quella sera, con un altro. E di quell'alba del giorno dopo. Ed io? Che cosa ci farei in quella storia? Beh, in fin dei conti sarei la parte più interessata, la vicenda, la più... cruciale. Innamorato di Gaia. Forse ancora un poco, sì. Dopotutto è stata mia moglie. Ma questo è meglio non mettercelo nel racconto. Lo spezzerebbe. Sarei, come dire, d'incomodo. E riaprirebbe quella piaga nel rapporto... Tra due amici che non potessero esanata. Tornerebbe alla memoria quell'evento doloroso... Che ho tentato in vano di dimenticare. Ecco, nella storia potrei diventare... Un confidente di Gaia. Un buon amico, insomma. Sì, forse sarebbe meglio. Ma che serve? Non fu così. Ed allora mi provo a ricominciare. Scrivo... Quelle serate passate con la chitarra. Ma... Ma non posso più. Come faccio a continuare... Ora? Ciao. Grazie.